Preghiamo insieme questa sera davanti al Signore i misteri della gloria, i misteri che ci svelano il nostro volto di Chiesa, quella Chiesa che diventa trasparenza del vero volto di Dio, quella Chiesa che per la Paternità di Maria diventa il corpo di Cristo. E allora questa sera davanti al Signore vogliamo portare tutte le membra del corpo di Cristo, il corpo della Chiesa che stanno soffrendo. Vogliamo portare tutti i nostri ammalati, tutte le persone che nella prova si affidano. Vogliamo mettere tutti nel cuore e nelle braccia di Maria, perché sia Lei la nostra fiducia. E con Maria vogliamo contemplare la Patria verso cui stiamo camminando. Davanti al Signore, Maria ci mostri e ci unisca alla gioia di tutti i Santi e ci unisca anche alla presenza viva di tutte le persone che ora contemplano il volto di Dio, che ci aprono la porta, che stanno sulla soglia, che ci conduce al Padre, nella presenza dello Spirito e nell'amore di Gesù risorto. Grazie.